Ciao, te sei il segno di Ariete? Il segno dell'Ariete significa la volontà di affrontare la vita frontalmente, con il loro entusiasmo nell'affrontare le sfide della vita e la capacità di prosperare sotto passione. Si sentono felici quando hanno una sfida da affrontare. È avventuroso, vivace e pioneristico con la determinazione di andare avanti in modo indipendente contro ogni previsione. Conosciuto per la sua grande sicurezza, l'Ariete tende ad avere un sacco di ottimismo all'inizio di qualcosa, ma ha la difficoltà a portarlo fino alla fine. A volte possono oscillare dall'ottimismo all'inconscienza, ma tenendo gli occhi puntati sull'obiettivo può aiutare a scongiurare qualsiasi forma di autosabotaggio. Sei così Ariete? Un bacione!